Ascolta, ti voglio solo dire che sono felicissimo di vederti in questo percorso, non credevo, sai, io sono scettico, non è una parolaccia, non credevo veramente, stai facendo un percorso fantastico, sai, noi veniamo dal niente, quindi non dal niente però, dal niente no, veniamo dai nostri genitori, però i nostri genitori non avevano niente, noi eravamo bambini non fortunati all'inizio, quindi stai facendo vedere quello che veramente sei e sono felicissimo per tutto ciò e ti volevo dire solamente che sono fiero di te, sai, io non ho mai avuto l'occasione di farmi vedere per quello che sono, se non a te che sei mio fratello, a pochi amici che sai anche tu, ma alla nazione, al mondo non ho mai avuto il modo vero di far vedere la persona che sono e tu ci stai riuscendo, quindi stai facendo qualcosa in più di tuo fratello, devi essere fiero, no davvero, farei scherzi, stai facendo una cosa che io non sono mai riuscito a fare, veramente, quindi ti voglio bene, un abbraccio e a presto e ammetti che hai baciato il salvaggio dai, prendi in giro Sceo, ti voglio bene Sceo, ciao E' una grossa sorpresa questa, anche per te Sceo, ciao